Versacrum, la primavera sacra, una manifestazione che è rappresentativa della nostra terra del Molise, la nascita di Boiano e i rituali dei Sanniti. Oltre 200 i figuranti in costumi curatissimi per la quindicesima edizione di un evento che ha richiamato nella cittadina matesina tante persone. I mille posti a sedere tutti occupati, la suggestione di una storia antica nelle scene rappresentate lungo le vie di Boiano con il corteo storico, il sacrificio con il sacerdote che benedice i giovani pronti a partire per nuove terre, la partenza con il bue che si fermerà presso il Biferno, il luogo in cui sorgerà Bovianum. Racconda a Strabone che nel VII o VI secolo a.C. un gruppo di sabini o sabelli per una serie di calamità che si erano verificati nel loro villaggio, quindi non potendo permettere la sopravvivenza a tutti i componenti della tribù, hanno deciso di fare emigrare questi ragazzi. Una storia che si ripete, una città fondata sull'emigrazione. Non solo sono di Boiano i nostri figuranti, ma sono anche molti dei paesi vicini e anche stranieri. Una coreografia impeccabile, recita e danze, il ritmo dei tamburi, il rumore dei passi dei soldati, la scena del matrimonio con la donna come ricompensa per il valido guerriero, il vecchio saggio interpretato da Franco Valente. Un evento che per Boiano comincia a diventare importante. Credo che siano le premesse per poter trasformare questa manifestazione in una sorta di fiore all'occhiello per dare soprattutto credibilità alle ricerche storiche. È uno sforzo che punta a ricostruire le radici storiche della nostra regione, dalle quali si deve partire per poi programmare anche un futuro, soprattutto per i giovani. Ecco, il contributo che si vuole dare è legato alla possibilità reale di questa regione di offrire un panorama storico, archeologico, architettonico, capace di produrre anche reddito. Queste manifestazioni non possono finire così come sono fatte, ma si devono trasformare anche in un fatto economico per la comunità. Scene di battaglia, il giuramento dei giovani guerrieri sanniti, il Versacrum organizzato dalla FIDAPA di Boiano con il patrocinio del Comune, è una manifestazione molto sentita. Voce narrante, l'attore Edoardo Siravo, ha partecipato il gruppo animatori centro storico di Larino, i cavalieri di Boiano e i gladiatori del gruppo storico romano.